Buonasera, un saluto a tutti voi da parte mia e di tutta la nostra redazione. Eccoci all'ultimo appuntamento con il telegiornale, l'edizione delle 23. In apertura parliamo della inchiesta del terremoto giudiziario che ha bussato ai piani alti della Santa Sede, anche a quelli altissimi. Oggi la sentenza con la quale il giudice del Tribunale del Vaticano Pignatone ha condannato il cardinale Angelo Becciu a 5 anni e 6 mesi e Gianluigi Torzi a 6 anni. La vicenda è quella arcinota della compravendita del palazzo londinese in Sloan Avenue nella quale è coinvolta, è stato protagonista il broker molisano, tutti i particolari con le condanne nel servizio di Anna Maria Di Matteo. Cinque anni e sei mesi di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici per il cardinale Angelo Becciu. Sei anni di reclusione, il pagamento di una multa di 6.000 euro e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici per Gianluigi Torzi, il broker molisano finito nell'inchiesta sulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato della città del Vaticano e la compravendita di un palazzo in Sloan Avenue a Londra. Le condanne sono state messe dal Tribunale del Vaticano al termine di un processo che vede coinvolti 10 imputati per reati di natura finanziaria. Un processo articolato in ben 86 udienze, al termine delle quali è arrivata la decisione annunciata dal Presidente del Tribunale Vaticano, Giuseppe Pignatone. Tutti gli imputati sono stati condannati in solido tra loro al risarcimento dei danni in favore delle parti civili per una somma complessiva di oltre 200 milioni di euro. Dal peculato alla truffa, dall'abuso d'ufficio al tentativo di condizionare un testimone e reati contestati agli imputati, tra i quali il Torzi, che fu intermediario nell'operazione di compravendita del Palazzo da parte della Segreteria di Stato del Vaticano. Operazioni condotte in maniera poco trasparente, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei soldi di cui aveva avuto piena disponibilità dalla Santa Sede. C'è profonda amarezza, è stato il primo commento di Becciu. Faremo ricorso. Sempre per la cronaca giudiziaria parliamo delle motivazioni che hanno indotto il giudice Salvatore Casiello a pronunciare la sentenza di condanna in corte d'assise a metà settembre nei confronti di Gianni De Vivo per l'omicidio di Natale. In pratica il giudice ha applicato i benefici del rito abbreviato. Sentiamo perché. La partita a poker della vigilia di Natale, saltata per una fregatura da 50 euro. Pochi grammi di cocaina, considerati un pacco, avevano scatenato una lite sfociata poi nella morte di Cristiano Micatrotta. Omicidio volontario ma senza la premeditazione. Nelle 71 pagine delle motivazioni il giudice che ha presieduto la corte d'assise nel processo a carico di Giovanni De Vivo ha ritenuto concordanti le prove le testimonianze raccolte la sera del 24 dicembre del 2021 per arrivare alla condanna dell'imputato. Prima le minacce e gli insulti attraverso messaggi whatsapp sui rispettivi cellulari, lo scambio sui telefoni dello stesso imputato e di Alessio Madonna, cognato della vittima, alla quale erano destinati gli improperi perché De Vivo non aveva il numero di cellulare. Lo scontro in via Vico a poche decine di metri dall'abitazione di Gianni De Vivo, poi spintoni e qualche calcio come ha raccontato nel corso del processo un vicino di casa che aveva visto il terzetto litigare nel piazzale sottostante. Poi l'improvviso colpo sferrato alla gola con un coltello da cucina, un solo fendente. L'automobilista davanti al quale si era frapposto Cristiano Micatrotta lo aveva soccorso mentre perdeva sangue dal collo e dalla bocca. Un colpo mortale che gli aveva lesionato l'arteria e provocato la morte per asfissia in pochi minuti, come ha ricostruito il medico legale nell'autopsia. Pochi dubbi su come si sono svolti i fatti, esclusa l'ipotesi della legittima difesa e dell'eccesso di legittima difesa. Troppo squilibrato il rapporto tra chi aggredisce a mani nude e chi dispone di un coltello con una lama di 13 centimetri, ha argomentato il giudice Salvatore Casiello. Esclusa la premeditazione, resta l'imputazione per omicidio volontario. La difesa aveva chiesto il rito abbreviato in fase di udienza preliminare che non poteva essere concessa per un reato che in ipotesi prevede l'ergastolo per l'eventuale aggravante della premeditazione. Esclusa la quale, ha scritto il giudice nella motivazione, può invece essere concesso il rito abbreviato con le riduzioni della pena previste dal codice. Al termine del dibattimento la Corte di Assise di Campobasso, presieduta da Salvatore Casiello, ha condannato Giovanni De Vivo a 15 anni e 4 mesi di reclusione. Vento forte in gran parte della regione con temperature scese quasi ovunque di qualche grado, solo qualche cartellone pubblicitario però abbattuto mentre a Venafro un albero è caduto su un'auto in sosta provocando solo danni alla macchina al cui interno, come vedete dalle immagini, non c'era nessuno. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza anche il tetto di una casa dalla quale erano cadute alcune tegole. In tanti oggi hanno partecipato all'open day vaccinale, l'iniziativa che è nata per fronteggiare l'ultima ondata dei casi covid a Campobasso, Isernia e Termoli in coda per le dosi, non soltanto contro il covid. Ce ne parla in questo servizio Barbara Fino. Buona affluenza in tutto il Molise per l'open day vaccinale sempre protetti, iniziativa promossa dal direttore generale Asrem Giovanni Di Santo in collaborazione con il direttore del dipartimento unico di prevenzione e con il direttore della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva dell'Unimol. L'obiettivo è proteggere la salute della popolazione per raggiungere il più ampio numero di persone possibile, in vista delle festività natalizie, ma soprattutto considerando l'elevato numero di contagi registrato nelle ultime settimane. L'open day in tutta la giornata si svolgerà presso i centri vaccinali di Campobasso in via Toscana 81, a Isernia in largo Cappuccini ex ospedale vecchio e a Termoli in via del Molinello 1. Qual è l'importanza in questo momento specifico di fare vaccino? Innanzitutto tutti i vaccini sono importanti, poi chi crede nella scienza e nella medicina li fa, chi invece è presuntuoso e poi ci lascia le penne, mi dispiace, però gli esempi li abbiamo avuti. Il richiamo va fatto, la vaccinazione è importante, la scienza ci aiuta, quindi anzi queste iniziative dovrebbero essere maggiormente pubblicizzate perché non tutti conoscevano l'open day oggi. Covid è anti-influenzale. Meglio proteggersi soprattutto in questa fase? Direi, penso proprio di sì. Signora lei in fila per il vaccino? Sì, sì. Quale dei due ha scelto? Il Covid, il Covid, la quarta dose devo fare. Quindi tra poco tocca anche a lei, è meglio premonirsi soprattutto in questo periodo? Assolutamente, certo, assolutamente. Centinaia le persone che hanno approfittato della giornata dedicata ai vaccini in maniera gratuita e senza prenotazioni contro l'influenza, il Covid-19, l'herpes zoster, lo premonococco, il papillomavirus e difterite, tetano per tosse e poliomelite. Io ho fatto tutti i vaccini e faccio pure questo anche perché si sta diffondendo abbastanza anche nel Molise. Adesso facciamo le feste, la famiglia e quindi è meglio proteggersi. Speriamo che vada tutto bene. Sono contento che la popolazione di Isernia sta rispondendo a come vedo abbastanza bene. Abbiate fiducia, abbiate fiducia perché come avete visto finora il vaccino ci ha salvato dalla crudezza della malattia, anche se uno ha avuto di nuovo un'infezione ma è stata una banale patologia, semplicissima patologia assimilabile ad una semplicissima influenza. Quindi abbiate fiducia, venite e speriamo che continuino con questi open day vaccinali. Dieci anni fa cambiava la storia della Lega su tutto il territorio nazionale grazie all'arrivo di Matteo Salvini. Lo ha detto in una nota il commissario regionale del partito Michele Marone che ha ricordato il primo decennale che ha portato alla guida del partito l'attuale ministro delle infrastrutture vicepremiere per il nostro movimento. Ha detto Marone è stato un cambiamento epocale. Oggi grazie a Salvini la Lega è forza di governo e colonna portante dello stesso governo ed è un partito presente in tutte le regioni d'Italia. Anche in Molise si sta rivelando fondamentale, ha concluso Marone. La Lega da dieci anni a questa parte è riuscita a rinnovarsi e a parlare a tutti gli italiani. E in consiglio regionale l'approvazione da parte della maggioranza del bilancio di previsione con l'aumento delle addizionali IRPEF ha lasciato polemiche e strasciche. Il movimento politico Costruire Democrazia ha pronta una diffida oggi l'incontro con i giornalisti nel quale è stata spiegata questa iniziativa. Vediamo. Parte subito all'attacco Costruire Democrazia dopo l'approvazione da parte della maggioranza in consiglio regionale del bilancio di previsione con l'aumento dell'addizionale IRPEF. Già pronta la diffida come annunciato dai vertici del movimento politico nel corso di una conferenza stampa. Abbiamo preparato una diffida perché la regione annulli e riveda questa posizione sulla base di una serie di argomentazioni tecniche che tra l'altro sono tutte quante sviluppate e che nei prossimi mesi faremo oggetto anche di altre iniziative fino a quando questo tema non emergerà per quello che realmente è. Dopo 16 anni di commisteriamento i danni in questo caso vengono posti a carico della vittima anziché dei responsabili. La regione Molise è stata esautorata dalla possibilità di gestire il segmento sanitario. A fronte di questa esautorazione della regione e degli organi elettivi c'è stata la nomina di un commissario da parte del governo e anche l'individuazione di tavoli tecnici per coordinarne l'attività e controllarne periodicamente e progressivamente. Abbiamo visto seguire una serie di figure tecniche che avrebbero dovuto recuperare il disavanzo quando in realtà hanno accresciuto questo debito e hanno probabilmente condotto la regione a un punto di non ritorno. Oggi cosa succede? La regione Molise approva una legge regionale che prevede fino al 2051 che noi dobbiamo farci carico di questi debiti e dobbiamo in realtà scaricarli sulle prossime generazioni, sui figli e probabilmente anche sui nipoti. Consigliere Massimo Romano, qual è il dato politico? Il dato politico è che la regione Molise deve avere la schiena dritta nei confronti del governo Meloni e deve pretendere che il disavanzo sanitario venga pagato dallo Stato perché la regione è in regime di commissariamento da 14 anni e non possono essere i cittadini molisani a pagare per colpe non proprie, per colpe della struttura commissariale e dei ministeri che da 14 anni a questa parte evidentemente non sono stati capaci di raggiungere l'equilibrio finanziario. Ecco, una situazione comunque ereditata che viene da lontano. Da 14 anni per la precisione. Da 14 anni la regione non tocca palla perché c'è il commissariamento dello Stato. Costruire democrazia propone, lo fa rivolgendosi direttamente al governo centrale ma coinvolgendo tutti i cittadini perché non possono ricadere queste maggiori, in termini di maggiori tasse, sulle tasche dei cittadini molisani. L'Aggiunta aumenta le tasse e noi chiediamo invece che si mettano in macchina, vadano a Roma e pretendano che a farsene carico sia lo Stato e non la regione. Cambiamo decisamente argomento, andiamo in Terra Santa, viviamo nella paura, la situazione è difficile, ha detto padre Ibrahim Faltas che ha partecipato in collegamento da Gerusalemme all'incontro di approfondimento promosso a Termoli alla ricerca della pace in Medio Oriente. Gli attuali scenari di guerra terrorizzano ma è tanto l'impegno di volontari che provano a costruire uno scenario diverso. Il servizio di Andrea Nasillo. La ricerca del diritto più grande, la pace, una ricerca spasmodica in un contesto, quello mondiale, tremendo. Guerre su più fronti. Al cinema Sant'Antonio a Termoli un incontro di riflessione con il movimento dei Focolari Italia, con Pax Christi e con la comunità Papa Giovanni XXIII, a 60 anni dall'enciclica Pace Minterris che delinea il percorso di pace basato su quattro pilastri, verità, giustizia, libertà e amore. Toccante, intriso di verità e di quotidianità, l'intervento in collegamento video di padre Ibrahim Faltas, vicario della custodia di Terra Santa a Gerusalemme, l'attuale conflitto spaventa, terrorizza la situazione. È difficile. Poco fa, due ore fa, sono arrivati in mistere anche qui a Gerusalemme, molto vicino a noi. E veramente c'è stata la paura per tutta la gente che abita a Gerusalemme. E dal 7 di ottobre stiamo vivendo in questa situazione. È complicato ma fondamentale costruire la fraternità universale e la pace tra le persone e i popoli. Oggi, come ieri, purtroppo, la pace è messa in discussione da questi conflitti che sembrano interminabili perché si ripetono per tanti motivi. Qual è la nostra visione per il presente e per il futuro. È quella come Movimento dei Paschristi di continuare, nonostante le difficoltà, nonostante le resistenze, le opposizioni e le giustificazioni sempre della guerra, a dire che non c'è mai una giustificazione per la guerra. Attraverso i volontari, Operazione Colomba vive con le vittime delle guerre, ne ascolta quali sono i bisogni e cerca di portare avanti dei progetti che nascono da loro, proprio dalle vittime. Questi anni abbiamo avuto, penso, 3.000 giovani che sono partiti con Operazione Colomba. Abbiamo cominciato nel 92 in ex Yugoslavia e oggi siamo in Ucraina, in Palestina, in Cile, in Colombia, in Grecia con i profughi e in Libano con i profughi siriani. Non è possibile più pensare in alcun modo a una guerra che sia giusta e quindi dobbiamo fare tutto il possibile. Il Movimento dei Focolari si impegna anche per sue caratteristiche peculiari. Se siamo il Movimento che come carisma abbiamo avuto quello dell'unità e quindi della fraternità universale di tutti i popoli, di tutta la gente, di tutte le religioni. Vinchiaturo mette al bando il lancio dei palloncini alle feste o alle cerimonie. L'ordinanza è stata firmata dal Sindaco Luigi Valente riguardo alla tutela dell'ambiente. Nel dettaglio il provvedimento in occasione di eventi pubblici e privati, inaugurazioni, matrimoni, feste, fiere, manifestazioni sportive, vieta di abbandonare o rilasciare palloncini anche se biodegradabili e oggetti simili che possono disperdersi senza controllo nell'ambiente. Il Comune di Vinchiaturo ha spiegato il Sindaco ha compiuto questa scelta richiamando non solo le leggi europee in tema ambientale ma anche in riferimento al recente protocollo d'intesa con l'associazione Plastic Free nell'ottica di ridurre il più possibile l'impiego della plastica. Per chi trasgredisce sono previste multe da 25 a 500 euro. Andiamo a Capracotta dove si è svolto il Forum delle Terre Alte. La quarta edizione ha approfondito le condizioni delle aree interne e le possibilità di sviluppo. Il servizio di Barbara Fino. Il Comune di Capracotta protagonista dell'atteso Forum delle Terre Alte nell'ambito degli eventi culturali di approfondimento del progetto Montagna Aperta. L'incontro che si è tenuto presso l'hotel Monte Campo è stato organizzato dal Comune simbolo della montagna alto molisana in collaborazione con Molise e Cultura della Regione. Il tema di questa quarta edizione l'avvenire delle comunità e della montagna in un'ottica di ripopolamento territoriale e di conservazione di un patrimonio unico e inestimabile. La montagna è un bene di tutti. È esordito il primo cittadino di Capracotta, Candido Paglione, ad apertura dei lavori. La cura e la conservazione dei territori montani non possono ricadere solo sulle persone che la abitano e che la amano. La montagna e i pochi abitanti che ci sono rimasti non può farsi carico da sola di tutto il lavoro di manutenzione e di salvaguardia del territorio perché la montagna è un bene collettivo che appartiene a tutti. Allora è giusto che lo Stato disponga iniziative legislative che invece favoriscano la residenzialità in montagna. E poi oggi c'è tutta la questione della crisi climatica, dei cambiamenti climatici che è un tutt'uno assieme allo spopolamento. Per cui prendere coscienza dei servizi ecosistemici oggi diventa un elemento non più rinviabile. La necessità è quella di garantire servizi fondamentali tramite politiche di salute, di infrastrutture e di vantaggi fiscali. Questo, secondo Piero Lacorazza, direttore generale della fondazione Appennino ETS consentirebbe una ridistribuzione equa di popolazione tra le grandi città e piccoli paesi. Bisogna garantire diritti. Ogni diritto piantato in queste aree è un albero piantato appunto. Significa servizi di base, aree interne senza servizi, senza ospedali, senza scuole, senza mobilità, senza infrastrutture, è retorica, solo retorica. E a questo bisogna poi costruire le condizioni attraverso dinamiche anche di sviluppo che non siano esclusivamente turistiche. Tra gli intervenuti all'incontro, Anna Rizzo, antropologa culturale e autrice del libro I Paesi Invisibili. Dare valore alle comunità, ai paesani, perché i paesani sono delle comunità competenti, che sono in grado di trovare all'interno, anche con il dialogo all'interno della propria comunità, attraverso la partecipazione e delle motivazioni anche esistenziali per rimanere a vivere nel territorio. A distanza di vent'anni da quella strage nella quale morirono 19 militari italiani, è stato presentato a Campobasso il libro di Carmelo Burgio, generale dei Carabinieri, che racconta la strage di Nassiria. Vediamo. Doveva esserci anche lui quel maledetto 12 novembre del 2003, nella base militare italiana di Nassiria, maestrale, ma il caso volle che fu chiamato dalla città di Bassora, dove aveva sede il comando superiore dal generale comandante, che gli ordinava di presentarsi da lui. Quell'ordine gli salvò la vita. Il generale dell'arma dei Carabinieri, Carmelo Burgio, all'epoca neocomandante delle truppe italiane a Nassiria, e testimone del terribile attentato suicida, nel quale persero la vita 19 militari italiani, ha deciso di scrivere un libro. A distanza di 20 anni da quella tragica giornata, ripercorre quei giorni nel libro Nassiria, dall'attentato alla ricerca della verità, presentato al Mario Pagano di Campobasso. Sono un miracolato, perché il 12 avrei dovuto accompagnare la truppa cinematografica, che doveva recarsi sul posto per poi girare un film. All'ultimo momento ebbi ordine di andare a Bassora a presentarmi al generale britannico, in quanto avrei dovuto assumere il comando il 13 o il 14, e quindi il 12, invece di essere con la truppa e saltare in aria con loro, ebbi la fortuna di sopravvivere. Da allora, presi il comando del reparto a partire dal 15, mi dovetti sobbarcare il problema della ricostruzione del reparto, e per 20 anni ho ragionato e ho cercato di capire perché era avvenuto quest'attentato, quindi mettendo insieme quello che ho visto prima, quello che ho vissuto dopo l'attentato, e quello che è successo durante il processo, ritenevo fosse possibile raccogliere dei dati e dare al lettore, ammesso che possa essere interessato, quella che è una parte della verità. Nasseria non è solamente i morti, non è solo quel dolore, ma dovrebbe essere anche un po' di orgoglio di italiani di aver fatto un lavoro nella maniera giusta dopo. Da un anno è aperta a Campolieto una piccola lavanderia sociale che dà lavoro a otto giovani, un progetto di inclusione nella salute mentale promosso dall'Associazione Dialogo con i fondi dell'Otto per Mille della Chiesa Valdese. È stata presentata l'iniziativa a conclusione del progetto nella Sala della Costituzione a Campobasso. C'era per noi Marta Martino. Il progetto è nato un anno fa, una piccola lavanderia sociale a Campolieto che ha dato occupazione ad otto giovani, un progetto di inclusione sociale nella salute mentale curato dalla cooperativa sociale Dialogo. La parte finale del progetto è stata presentata nella Sala della Costituzione di Campobasso. Oggi presenteremo proprio quelli che sono stati gli obiettivi raggiunti attraverso questo progetto che ci consente appunto di dare un'opportunità alle persone che hanno partecipato di essere inclusi in maniera effettiva all'interno della propria rete sociale, all'interno della comunità di appartenenza, garantendo e offrendo una possibilità lavorativa aggiuntiva rispetto a quella che è la precedente. Quindi adesso questa lavanderia è un punto fisso del paese? Sicuramente la società oggi potrebbe dare un contributo grande a queste persone che hanno acquisito delle abilità, delle competenze specifiche rispetto alla lavanderia. Quindi la loro parte l'hanno fatta, adesso tocca a noi come comunità fare la differenza. A Corredo è stata inaugurata nell'androne della provincia di Campobasso una mostra fotografica curata dall'Associazione Sei Torri Tommaso Brasiliano che resterà in esposizione fino a venerdì 22. La realizzazione del progetto della lavanderia è stato reso possibile grazie al contributo dell'Otto per Mille della Chiesa Valdese che ha creduto nel grande valore sociale dell'iniziativa. Io non ho alcun merito evidentemente. Le nostre chiese da diversi anni con i finanziamenti degli italiani dell'Otto per Mille delle Chiese Valdese metodiste sostengono una gran parte del settore sociale, del terzo settore, della cultura e noi siamo molto felici di poter sostenere e di aiutare soprattutto quelle iniziative molto meritevoli come quella di cui parliamo questa sera che insistono su territori particolarmente disagiati che non offrono quindi molte altre alternative. Adesso vediamo le immagini del concerto di Edoardo Bennato a Isernia che ha chiuso il ciclo di eventi promosso dalla Fondazione Molise Cultura all'Auditorium. Dopo Enrico Brignano e Patti Smith e Pio Amedeo anche per il cantautore napoletano si è registrato il tutto esaurito. Bennato ha aperto lo spettacolo da solo proponendo alcune delle sue canzoni più famose diventate con il tempo classici della musica italiana. Poi nella parte centrale del concerto accompagnato dalla band il cantautore che a 77 anni ha scaricato sul palco grande energia e rock blues con canzoni più recenti e altri cavalli di battaglia. Nella scaletta non sono mancati i brani tratti dai più importanti album Burattino senza fili sono solo canzonette fino alla torre di Babele e il suo disco di esordio del 1973 Non farti cadere le braccia. Dalla canzone d'autore alla moda la stilista Flavia Cordisco è riuscita a trasformare la sua passione con un lavoro aprendo il suo atelier a Campomarino. Ce ne parla Francesca Danversa. Un sogno che diventa realtà quello della stilista Flavia Cordisco che ha inaugurato il suo atelier di moda nel centro di Campomarino. Anni di studio e sacrifici ma la passione e la determinazione sono sempre state il motore che l'ha spinta a non mollare nel perseguire i suoi obiettivi. Creatività ed eleganza si rispecchiano negli abiti che Flavia realizza in maniera sapiente e certosina attenta alle esigenze dei clienti. Sono sette anni che io faccio sfilate un po' in giro quindi sia in Molise, in Abruzzo ho partecipato a concorsi di bellezza infatti ho fatto anche una sfilata a Ibiza sulla costa Crociera Fortuna dove ho vestito 62 modelle. Oltre ad essere una stilista di abiti da cerimonia da sposa e da abiti da sera io ho preso l'attestato anche come wedding planner quindi organizzo un evento a 360 gradi che sia un battesimo un compleanno un matrimonio un qualsiasi cosa faccio anche bomboniere personalizzate torte finte faccio un po' tutto e faccio parte anche dei cortei storici quindi riportati al Medioevo siamo ad alcuni appuntamenti di domani open day con l'illustrazione dell'offerta formativa Mario Pagano da avviare nei prossimi mesi sia di mattina che di pomeriggio open day anche all'istituto Pilla di Campobasso nella sede di Via Veneto e dell'Agrario in Via Manzoni a Riccia assemblea regionale della Proloco dalle nove nella sala Beato Stefano nell'occasione sarà festeggiato il sessantesimo anniversario della Proloco di Riccia mentre in serata ci sarà il coro gospel di Pietrelcina nella chiesa dell'Annunziata sempre domani nella sala del Don Guglielmo a Campobasso a partire dalle 11.30 sarà attribuito il premio Ada Trombetta organizzato dalla sezione Lions di Campobasso appunto sempre domani giornata dedicata al Natale a Pietrabbondante dalle 15 mercatini al coperto con la casetta di Babbo Natale in serata la commedia spumante avariato per la leggia di Lino D'Ambrosio durante la giornata saranno presenti stand gastronomici e invece c'è l'Open Lab per aprire i laboratori della scuola e far comprendere il valore di queste aule dove si sviluppano progetti didattici innovativi tutto questo accade all'Istituto Marconi di Campobasso che ha aperto le porte alle famiglie per mostrare al meglio l'offerta formativa per noi c'era Gabriella Laurelli L'Istituto Tecnico Marconi apre le sue porte per illustrare l'offerta formativa concretamente permettendo a studenti e genitori di avere conoscenza diretta delle attività tecniche che si svolgono a scuola Sì abbiamo pensato a questa forma non usuale l'Open Lab ma questo semplicemente perché l'anima di questa scuola è costituita proprio dai laboratori e dalle attività che in esse si svolgono quotidianamente da parte di tutti i ragazzi di tutti gli indirizzi e i laboratori sono la vita di questa scuola sono ciò che fa la differenza rispetto ad altri indirizzi di studi che sono più teorici più orientati alla teoria in questa scuola la parte teorica che pur esiste ed è molto importante è coniugata con quella pratica dall'elettronica alla meccanica dalla chimica all'informatica e telecomunicazioni e tanto altro l'Istituto Tecnico per il Settore Tecnologico Marconi offre agli studenti ogni possibilità di scegliere e portare a compimento il percorso di studi che permetterà loro di inserirsi anche direttamente nel mondo del lavoro nel mondo del lavoro così come nella prosecuzione degli studi per quanti vogliano decidano questo tipo di scelta per il loro futuro di sicuro l'emissione nel mondo del lavoro viene favorita viene favorita anche dai contatti diretti con le aziende con cui i nostri alunni fanno le attività di PCTO ma con cui noi condividiamo obiettivi e percorsi in maniera da renderli sempre più competitivi e dirigente ricordiamo il periodo per quanto riguarda le iscrizioni sì le iscrizioni quest'anno sono un po' ritardate si apriranno il 18 gennaio si concluderanno il 10 febbraio impegnato oggi nell'attività del tuo laboratorio non solo per mettere in pratica cosa stai apprendendo ma anche per illustrare concretamente agli studenti il lavoro e lo studio che porti avanti sei soddisfatto di questa scelta? sì a 4 anni dalla mia scelta sono molto soddisfatto perché è una scuola che non solo ci dà delle competenze teoriche ma ci dà delle competenze anche pratiche da poter utilizzare poi nel mondo del lavoro in futuri studi universitari cosa consigli a chi vuole scegliere questo istituto tecnico per il settore tecnologico? di fare questa scelta consapevolmente perché è una scuola molto importante permette veramente di acquisire le competenze che servono poi nella vita e con questo servizio si chiude anche l'ultima edizione del nostro telegiornale prossimo appuntamento con l'informazione di Telemolise la rassegna stampa di domani mattina per ora è tutto grazie per essere stati con noi e buonanotte grazie per la visione